estate e stiamo andando a venezia è vero perché siamo in compagnia di karine fribel marson che ha ideato assieme al malito luciano questo bellissima attività che risponde al nome di peace of venice buongiorno karine benvenuta a pink and green buongiorno maria cristina grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori beh io credo che adesso gli ascoltatori si stupiranno perché voi avete a che fare con un bosco al contrario a venezia vero sì è una delle definizioni che diamo al materiale principe che abbiamo deciso di utilizzare per la realizzazione dei nostri souvenir e oggetti di design legati proprio a venezia raccontiamola proprio bene voi recuperate dei pezzi che uno magari non ci fa caso ma ce ne sono tantissimi a venezia sono le sono le briccole il legno delle briccole che altro non sono che tronchi o di rovere o di quercia che sono sempre stati utilizzati fin dalla nascita di questa magnifica città che fa sognare le persone di tutto il mondo perché proprio ormai 1600 anni fa ricordiamo che l'anno scorso si è celebrato l'anniversario dei 1600 anni di venezia questa città sogno è nata grazie al fatto di aver conficcato a testa in giù quindi con la punta rivolta verso il fondo melmoso sabbioso della della laguna di venezia questi milioni di di alberi di tronchi che poi essendo privati dell'ossigeno sono diventati talmente forti strutturali quasi come anzi come il cemento e hanno permesso l'edificazione della città di venezia queste briccole oggigiorno queste sono ovviamente sommerse sono sotto a fare le fondamenta di venezia e non sono quelle non le toccate no no beh non potremmo neanche accedervi ovviamente però gli stessi tronchi se sì lo stesso legno delle briccole che poi allora dire briccole anche non è così corretto nel senso che solo quando vediamo il la la formazione a tre a tre tronchi riuniti di questo questo legno particolare immersi nell'acqua della laguna di venezia quelle sono le briccole ogni tanto servono per servono per ormeggiare le barche per segnare i canali navigabili sostanzialmente sono importantissime perché così le imbarcazioni sanno dove poter navigare altrimenti rischierebbero di trovare magari dei fondali troppo bassi o di andare fuori dai seminati insomma non consentiti per cui le briccole le vediamo ovunque sia per ormeggiare come diceva lei cristina che anche fuori in laguna fuori da venezia le isole quant'altro proprio per segnalare i canali navigabili ecco e voi che cosa avete pensato che quando c'è la sostituzione di queste briccole quel legno andava recuperato esatto esatto il nostro progetto nasce vabbè dal fondamentale amore per la città di venezia ma essendo provenendo sia io che mio marito ambedue dal mondo del legno e quindi questo materiale atavico che amiamo molto e pensando appunto che è il materiale principe di venezia quando abbiamo scoperto che ogni cinque dieci anche quindici anni queste briccole vengono sostituite perché un po per il moto ondoso un po perché nella laguna di venezia si trova la teredine si chiama che una sorta di mollusco marino quasi un bicione chiamiamolo un serpente marino che le mangia le erode cioè noi non lo vediamo perché la parte emersa non si vede però sotto sotto l'acqua alle volte vengono erose mangiate anche proprio da questo mollusco talmente tanto che poi ogni tanto rischiano di crollare imprevvisamente e creare anche cioè il rischio per incidenti alle imbarcazioni certo non hanno più il loro uso e quindi voi le recuperate ed è per questo che siete qui a thinking green perché è pura economia circolare allora intanto abbiamo capito che venezia non è solo vetro di murano alto ma anche tanto legno voi lo recuperate e che cosa avete ideato sì allora tutto nasceva da una tutto è nato da una consulenza nel senso che essendo mio marito nel mondo appunto del legno del design inizialmente c'è stato chi ha detto guarda io ho accesso alle fonte di briccole perché non è così facile trovarle e poterle acquistare è un materiale molto prezioso anche venduto un po peso d'oro purtroppo non ce n'è una grande disponibilità e quindi avendo avuto questa preziosa possibilità da parte di un imprenditore della zona lui era stato incaricato per per costruire una linea di mobili in realtà solo che pensando che c'è già chi lo fa sul mercato e anche bene da tanti anni luciano ha detto ma perché non pensiamo a qualcos'altro e quindi pensando alla città di venezia si è messo anche proprio nei panni di un turista di un amante della città che ha detto ma uno dei problemi di venezia è che non si trovano dei souvenir autentici purtroppo è sommersa di cineserie venezia lo sappiamo bene tutte queste bancarelle che troviamo ovunque che uno pensa anche di comprare le volte vetro di murano ma vetro di murano non è e c'era diciamo mancava un pochino questa possibilità di un vero souvenir autentico e quindi abbiamo pensato di farlo noi ecco quindi Karen Fribel e Luciano Marson hanno dato vita a Peace of Venice che in realtà poi contatta artisti e design mette loro in mano questo legno dalle briccole e legno esausto che però prende nuova vita in tante forme diverse sì 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 allora diciamo il nostro è proprio un progetto di impresa siamo nel nell'ambito proprio del design industriale non vogliamo parlare di artisti perché sarebbe diciamo sbagliato noi siamo un'impresa un'azienda che lavora questo legno a livello semi artigianale nel senso che la prima sgrezzatura del legno è fatta con macchine a controllo numerico c'è una bellissima condivisione di valori di intenti di progettualità con questo pool di designer molto rinomati italiani perché ricordiamo proveniamo anche noi da questo mondo specialmente mio marito che si sono uniti a noi con veramente un grande entusiasmo entusiasmo e gioia quando hanno scoperto che il nostro voleva essere un progetto di sostenibilità ambientale dato dal materiale di recupero ma anche di sostenibilità sociale perché fin dall'inizio ci siamo costituiti benefit company e abbiamo detto invece che incaricare dei fornitori normali comuni abbiamo deciso ad oggi il 70 80 per cento delle nostre lavorazioni sono svolte da cooperative sociali del territorio che quindi danno la possibilità di reintegrare nel mondo del lavoro dei ragazzi svantaggiati con con vario disagio o fisico o sociale e quindi quando hanno capito un pochino quello che avevamo nel cuore come come progetto nel globale ecco la collaborazione di questi designer grafici tutto il mondo che ruota attorno al nostro progetto devo dire che non ha quasi voluto vederne contratti né condizioni né niente sono noi li chiamiamo compagni di viaggio perché sono saliti a bordo con entusiasmo con voglia di partecipare a questo che è un progetto che va oltre al diciamo al progettare e realizzare degli oggetti sono degli oggetti in anima ecco diciamo che giustamente Alessandro Gasman vi ha citato all'interno del suo libro perché sintetizzate tutto quello che dobbiamo fare benessere ambientale e sociale i prossimi passi cari quali sono? I prossimi passi? Ecco siccome non vogliamo rimanere ghettizzati all'uso solo del legno perché ormai sono già quattro anni di attività che abbiamo fatto abbiamo incentrato proprio sul recupero delle delle briccole che come dicevo prima sono rover o quercia e dell'arice delle passerelle delle dei pontili eh dei vecchi pontili di Venezia quest'anno in occasione della Glass Week che quindi sarà a settembre vedrete i nuovi prodotti che avranno come materiale di recupero lo scarto del vetro di Murano quindi siamo a due passi dall'evoluzione di Pieces of Venice di recuperare non più solo il legno ma anche proprio il vetro di Murano e si chiude il cerchio e dopo c'è finché non troverete un nuovo materiale che potrà essere riportato in tutto il mondo sì abbiamo già diciamo stiamo già studiando anche eventuale recupero non so delle cime nautiche degli scarti di tessuti preziosi perché sappiamo che ci sono due tessiture molto importanti a Venezia tra Rubelli e Bevilacqua giusto per citarne due e quindi sì diciamo che non si fermerà qui la nostra avventura ma è destinata ad ampliarsi sia nell'uso dei materiali che insomma nella nella creatività. Sono contenta di avervi dato la parola e vi seguiremo appena ne inventerete un'altra. Grazie, grazie mille Maria Cristina. A presto, arrivederci. A presto, arrivederci a tutti. Grazie mille.